Consigliere Garofoli, lei è incaricato di presiedere una commissione molto importante che è quella della lotta alla corruzione. Può parlarci del ruolo di questa commissione? La lotta alla corruzione è una priorità nelle agende politiche di tutti i paesi occidentali perché la corruzione, il dilagare della corruzione è diventato un ostacolo alla competitività dei paesi. Ecco, tra i costi della corruzione ci sono non soltanto i costi economici che sono normalmente segnalati anche da noi annualmente ormai dalla Corte dei Conti e sono costi ingenti, ma sono anche costi economici indiretti tra cui quello costituito dalla difficoltà del nostro paese di attrarre investimenti, di attrarre investimenti esteri. Questa commissione sta lavorando a questo, ha già elaborato un primo rapporto che è stato pubblicato nei mesi scorsi ed è un rapporto con cui si suggeriscono misure che riguardano, ripeto, soltanto la prevenzione della corruzione. Adesso la commissione intende chiudere i suoi lavori all'esito di un piano di audizioni istituzionali e stiamo focalizzando la nostra attenzione su alcuni importanti settori che sono quelli degli appalti, della sanità e del governo del territorio, dell'urbanistica. Sono settori nei quali il rischio di corruzione si annida forse ancora più che in altri e io credo alla fine di questo mese noi pubblicheremo il rapporto conclusivo. Ecco consigliere, parliamo invece del ruolo delle prefetture e dei segretari comunali che la commissione ritiene molto importante. L'idea è quella secondo cui ogni amministrazione deve non soltanto le amministrazioni centrali ma anche le amministrazioni sul territorio, le amministrazioni locali, penso soprattutto ai comuni ma anche alle province, a quello che ne sarà, alle regioni, dovranno adottare un piano organizzativo in funzione di prevenzione della corruzione. In tutto questo ci siamo chiesti chi debba all'interno di ogni amministrazione avere il compito e la responsabilità di elaborare il piano, di assicurarne l'efficace attuazione e nei comuni in particolare la commissione pensa che questo ruolo possa essere svolto dal segretario comunale. Perché il segretario comunale possa svolgere questo compito delicatissimo di soggetto preposto alla prevenzione della corruzione deve il segretario comunale essere un po' più indipendente dagli organi di indirizzo politico. Nello svolgimento di queste funzioni il segretario comunale deve poi non sentirsi solo soprattutto in alcune realtà comunali e quindi deve poter contare su una rete nazionale di prevenzione della corruzione e noi crediamo che le prefetture possano svolgere un ruolo molto importante al riguardo. Tutto questo fa parte delle proposte di emendamento al DDL anticorruzione? Tutto questo è quello che la commissione ha proposto al ministro. Il ministro valuterà, io credo, a partire dal 28, cioè quando questo disegno il 28 maggio, quando questo disegno di legge arriverà in aula, valuterà quali emendamenti formalizzare appunto nell'ambito del disegno di legge. Lei può dirci qualcosa in più rispetto a questo disegno di legge? Il disegno di legge è adesso al vaglio delle commissioni, camera delle commissioni riunite, l'esame ormai riguarda gli emendamenti all'articolo 9, cioè l'articolo che attiene alla repressione della corruzione, cioè al penale e su quello ci sono gli emendamenti formalizzati dal ministro della giustizia. Tutto ciò che attiene alla prevenzione della corruzione invece è esaminato nei primi 8 articoli di questo disegno di legge ed è su questi articoli, su questi primi 8 articoli che il ministro Patroni Griffi proporrà emendamenti che atterranno appunto ai piani di prevenzione della corruzione ma anche all'integrità dei funzionari pubblici, alle incompatibilità dei funzionari pubblici, ai codici etici, al sistema di responsabilità disciplinare, anche alla tutela dell'anonimato del whistleblower. Noi su questo abbiamo avuto un incontro con l'Ocse, con la delegazione dell'Ocse e ne avremo anche nelle settimane successive e ci hanno spiegato i responsabili del settore prevenzione della corruzione dell'Ocse che nei paesi nei quali è stata prevista un'adeguata disciplina che garantisca l'anonimato di chi si assume la responsabilità di denunciare illegalità nell'amministrazione, la lotta alla corruzione ha fatto passi in avanti. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro. Arrivederci, grazie.